Oookay, ciao a tutti ragazzi, qua è Sorrent 99 che parla e intanto che metto via gli ultimi alberelli Si presenta anche con lui sempre Auron dei Guardi del 98, si presenta sempre l'ospite, lo sai Sorrent? Ma non sei ospite, sei coproprietario del canale Ohoho, mi piace sentirmelo dire Vabbè, comunque, in questo episodio faremo il secondo macchinario, mentre che pezzi mi farà una cabina per il suicidio Esatto, siccome ho leggermente fortificato la zona Esatto, allora sarà una base 5x5 in cobblestone, che quindi è questa qua, che vedete sotto Poi, ai vari angoli ci mettiamo il log, così Poi facciamo una cosa del genere E poi uno strato completo di cobblestone Pezzi Sì Oggi ho avuto l'abortone È l'apostrofo a No, no, l'abortone A È stato divertente Ok, vediamo se funziona Sì 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 Cos'è? Adesso vi faccio vedere In pratica col crusher No, si chiama crusher e non ci entro lì Se tu metti un pezzo di cobblestone qua Oh Con una data probabilità che esca del coal Esatto, del coal or Figata Quindi uno dovrebbe stare AFC così a Un macinatore A spammare cobblestone Ma Dato che noi siamo intelligenti L'automatizzeremo Ci faremo un generatore di cobblestone direttamente qua dentro In modo che Crei la cobblestone già in quel punto E quindi Faccia cose Però per fare questo Ci serve Ci serve La possibilità di produrre della lava Che ancora non possiamo fare Quindi Ah, non possiamo produrre Si può produrre lava? Sì Dalla roccia, immagino Ovviamente Dalla roccia e del carbone Comunque sì Ok Però già che ci siamo Di fianco al Ah, qua ci mettiamo Possiamo iniziare a fare cose decenti Quindi Direi che Piantiamo un altro albero Se io non Stupido acqua Se io non sbagliassi a Ok Perfetto E poi direi che Pezzo dobbiamo stare un po' AFC Spammare Far crescere cose Per me non è un problema Noi ci vediamo Dopo un po' Che Dopo che abbiamo Crasciato un po' di cose Adieu Ok Non ho più cibo Perciò Pezzo la tua cabina è pronta? Mi servirebbe Una cesta Per cosa? No vabbè Fa niente Lascio tutto là La cabina è pronta? Possa? Possa le tue cose Ah, posa Ho detto possa Possa? Sì sì Il pane posso Possa le tue cose Nella cesta Che metterò qua Va bene Ciao Non l'ho chiusa Dovrei fare un meccanismo Per aprirla con un bottone E chiuderla con un bottone Tipo No Se lasci un bottone L'impulso di resto Dura per un po' Quindi si apre E si chiude In automotica Appunto Diceo Tipo Un bottone Ah ok va bene Ah comunque Prima di suicidarmi Ho trovato Altro ferro E altro Coval Quindi Va bene Non si faccia un bottone Con un pezzo di stone Ah non di cobblestone Nope Abbiamo già fornaci No che non abbiamo fornaci Abbiamo una fornace Va bene bravo Vabbè che in realtà Quello che No non adesso Ma tra un po' Faremo Con cose fighe Con Ma bravo Piazziamo i blocchi Di gravel No Ho perso il mio unico blocco Di gravel Eh già Allora Prima facciamo tipo Il lava In Waterwheel Che è un macchinario Decente Che Trasforma la gravel In sabbia E Tante altre cose E la sabbia In E la sabbia In Altra sabbia No in Crate Quindi Adesso vado a vedere un attimo Come si fa Waterwell Eccolo qua Base 5x5 Ok Facile Easy Easy Demos Easy 48 di cobblestone E un secchiello d'acqua Secchiello d'acqua Ce l'abbiamo 48 di cobblestone Devo aspettare che sponi Aggiustare lo stick Il bottone difettoso Come Cioè la posizione del bottone è difettosa Dove l'hai messa? L'avevo messa qua ma non si riesce a raggiungere della botola Vabbè mettilo qua Qua dove sono io Cioè qua 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 dove sono io Su questo Su Per terra Oh ma si può adesso? Sì No Con il secchiello d'acqua No Ciao Ciaone Dimmi quello hai registrato Sì sto registrando Questa da mettere Ebbè Vabbè Oddio ok ci sono Ok Dovrei metterla sicura Eh Vabbè Io devo aspettare Altra cobblestone Perché mi servono 48 pezzi Ok Possiamo fare Il nostro Water wall Che è Il macchinario Che servirà per Per avere Sabbia Clay E tante altre cose Che poi Vi faremo vedere più avanti Perché sono utili All'inizio questi macchinari Sembreranno abbastanza inutili Visti così Ma a parte Il crusher Che in realtà è Il crusher non mi interessa Se utile o inutile È figo Esatto Fine della storia Quindi Allora la base 5x5 È 1 2 3 4 5 Ok quindi qua Poi facciamo Una cosa Tipo Così Secchiello d'acqua Così 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 E ci mettiamo Con lo stick Qua Al centro Guardiamo in basso E tac Abbiamo il water well Abbiamo il water well Quindi Water well Cosa fa questa roba Adesso ti faccio vedere Prendo delle scale Già Se noi Prendiamo della gravel E la crashiamo ancora Diventa la sabbia Senza possibilità Di darci Altre Ovvio Sarebbe troppo facile Se no Ok Senza possibilità Di darci altri ore Se non Della clay What Va bene Ok Se noi Ci mettiamo qua E facciamo Facciamo così No Fanculo Mi serve Della Eh Ho tolto l'acqua Per sbaglio Bravo E facciamo così Ancora Ho tolto l'acqua Tu odi proprio l'acqua Eh No Sorre È un odi morboso il tuo È patologico Credo Sì Se solo sapessi Cosa significa Il patologico Ok Clay Dopo vari fail Questo è quello che succede Abbiamo ottenuto la clay Che poi potrà essere cotta Ci sono tante cose da fare con la clay Tante 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 cose da fare con la clay No Non serve una cotta No Tutti i macchinari più avanzati In tutti i macchinari più avanzati servirà la clay cotta Io la usavo solo come oggetto d'abbellimento Sì infatti è solo un È per fare la struttura che serve alla clay cotta Ah Poi non serve a No serve a Solo dei rituali Strani Clay Nel tuo inutile Sei utile Mmm Sì Possiamo anche metterla così Mettiamo via tutto E dobbiamo aspettare che crescano altri alberi Cosa stai facendo? Mi sto mettendo in sicurezza Ma bastava il Uno scalino No Perché dovevi saltare Vabbè anche al cobblestone generator Devi saltare Dato che Ah no c'è la scala qua Hai ragione L'ho già testato La voglia di fare qualcosa Sì sul serio Io sto Pazzendo Voglio 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 Salvare questo mondo Dalle cate laterali Guardate Sembra di essere una prigione Ssh Zitto la tua ora d'aria è finita Facciamo altre cose Dov'è il piccone Io dimentico il piccone Non ti è caduto insieme a tutto? No Ce n'era un altro nella cesta L'ho preso io No ce l'ho io Ce l'ho io Quello è solo un'illusione Ah ok Cos'era? Guinevere o Guinevere? Guinevere Ci sono rimasto troppo male Darzo Erano finte Erano Finte Coal ancora Io faccio in serious Ah è cresciuto l'albero Meglio Meglio ci regano gli alberi Va bene Eh altri alberi Te l'ho detto Madonna mia Vengono per cuocere Ma Pfff K K K K Raga K K K Kipo London Kipsta Kipo Solo perché un piccone Nel inventare Altrimenti mi sarei già suicidato Vedi che è utile Eh La mia cabina di suicidio Ti senti triste Affrontare i problemi Non è la soluzione Sicidati Perché l'albero qua in fondo Cresce sempre piccolo Perché nell'albero piccolo Ci sta il vino fondo Cosa vuol dire? Che cazzo ne so Nella botte piccola Ci sta il vino buono Beone E hai Ciao Ciao Ci ha suicidato Eh ho visto il blocco in cui sono caduto È caduto fuori dal mondo Oh ma come sono sbadato Una mela Mia mela Mia mela Mia mela Mia mela Mia la mela Madonna neanche il mio tesoro È la mia mela Marlene 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 E ae Allora Il prossimo macchinario che dovremmo fare è Te lo dico subito Crashami queste Ho un buon presentimento su di loro Va bene Il prossimo che dovremmo fare È la Dimmi che è questa Yeppa La Qual Furneis Perciò pezze Off camera Sai cosa dovremmo fare? Cosa? Ampliare l'isola Again Ma tanto sto giro eh Perché questo sarà un macchinario 7x7 Non posso farmi 18 di sti cosi con la lava Eh no non abbiamo lava Eh no Però con il lava fornei Con il forneis produrremo lava Call Sì possiamo farlo No ce l'ho dato io il call In realtà hai prodotto due lapislazzuli Davvero? Sì guardami Che culo Te l'ho lanciato io per Tirarti su di morale Perché no se arriviamo a 9 di call Guarda che possiamo Nel prossimo episodio tipo Facciamo doppio macchinario E uno è una miniera di call Che è tipo quella di cobblestone Solo che Eh appunto produce call Sto inculando tutta la grave Sì ho visto Gravel 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 Poi i tuoi blocchi fanno davvero cagare Quelli che mi ha detto tu Come no Abbiamo preso i lapislazzuli da quei blocchi Sì ma ci serve il call Ho 46 di roccia Serve? Sì dammi Dobbiamo crashare tutto Vuoi che ti crashi il server? No Bravo tu crasha Io vado a suicidarmi Sto costruendo sabbia No crasha la roccia Pietrisco La cobblestone Io vado a suicidarmi Ancora Buon suicidio Che schifo Aspetta La vita fa schifo Gravel 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 Oh call Perfetto E abbiamo anche il call Perciò Nel prossimo Mi assento un secondino Mentre il pezzo esplode Noi ci vediamo al prossimo episodio E non lo faccio salutare Perché sono a capo